Scelta civica. Molti esponenti parlamentari di scelta civica sono passati al PD, ecco, compreso il Ministro dell'Istruzione. C'è un problema di riequilibrio all'interno della compagine governativa? Io direi che essendo noi 25 deputati, ne abbiamo acquisiti altri due, soltanto nell'ultima settimana sono arrivati due fuoriusciti del Movimento 5 Stelle. Questo conferma della nostra sostanziale estranetà alle logiche tradizionali del modo di fare politica. Ecco, i 25 deputati alla Camera senza una sponda al Senato evidentemente oggi riescono a dire meno rispetto al passato. Certo è che in prospettiva è possibile che questi numeri possano diventare fondamentali. Ed è per questo che giustamente questa compagine 25, che è il rammento, è più numerosa della Lega ed è di fatto pari a quella di Selle, debba trovare una sua espressione più significativa nella compagine governativa. Abbiamo solo un sottosegretario e questo oggi per 25 parlamentari ritengo sia davvero un risultato minimale. Grazie. Grazie.